decimo giro facciamo 3 catenelle in sostituzione di una prima maglia alta ora sempre all'interno dello spazio facciamo altre due maglie alte una e due ora iniziamo lavorando 2 catenelle e 3 maglie alte però negli spazi tra i gruppi di maglie sottostante quindi facciamo 2 catenelle nello spazio successivo lavoriamo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte e questo lo facciamo per tutto il lato finché non arriviamo all'angolo successivo ecco siamo arrivati all'angolo quindi facciamo le nostre 2 catenelle e nell'angoletto lavoriamo 3 maglie alte 5 catenelle e di nuovo 3 maglie alte sempre nello stesso spazio 2 catenelle e riprendiamo con i gruppi di 3 maglie alte da lavorare tutti negli spazi sottostanti all'angolo ripetete questo motivo e ci vediamo per la chiusura del giro ecco sono arrivata alla fine del giro faccio 2 catenelle vedete ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte nell'ultimo spazio disponibile adesso lavoro 3 maglie alte nell'angolo per concludere faccio 5 catenelle che andrò a bloccare in testa alle 3 catenelle iniziali del giro con una maglia bassissima come al solito ecco qua nell'undicesimo giro lavoreremo catenelle e maglie basse iniziamo facendo una catenella e lavoriamo una maglia bassa in questo punto proprio all'interno dell'archetto di 5 catenelle ora facciamo 3 catenelle sopra il gruppo di 3 maglie alte 1 2 e 3 una maglia bassa intorno alle 2 catenelle sottostanti e ripetiamo in questo modo 3 catenelle saltiamo le 3 maglie alte e lavoriamo una maglia bassa all'interno dello spazio successivo 3 catenelle 3 catenelle saltiamo il gruppo di maglie alte e lavoriamo una maglia bassa nello spazio successivo continuiamo continuiamo fino ad arrivare all'angolo allora facciamo ancora 3 catenelle 1 2 e 3 ora ci troviamo nell'angolo formato da 5 catenelle facciamo una maglia bassa una catenella di nuovo una maglia bassa 2 catenelle e ripetiamo una maglia bassa una catenella e una maglia bassa al nostro angoletto ora torniamo a ripetere 3 catenelle e una maglia bassa per tutto il lato quando ci troveremo all'angolo ripeteremo questa sequenza ecco qua facciamo 3 catenelle sull'ultimo gruppo di maglie alte e andiamo a completare l'angoletto con una maglia bassa una catenella una maglia bassa due catenelle una maglia bassa una catenella e siccome abbiamo già iniziato con la maglia bassa non dobbiamo fare altro che dopo la catenella fare la nostra maglia bassissima per legare abbiamo terminato l'undicesimo giro il dodicesimo giro si lavora esattamente allo stesso modo con l'unica differenza con l'unica differenza che troveremo negli angoli iniziamo con una catenella e una maglia bassa su quella sottostante ed ora continuiamo lavorando 3 catenelle sulle 3 catenelle che abbiamo lavorato nel giro precedente e la maglia bassa sulla maglia bassa in questo modo fino all'angolo allora facciamo nostre 3 catenelle prima dell'angolo e maglia bassa sopra la prima maglia bassa dell'angoletto ora a differenza della della sequenza sottostante in cui abbiamo 2 catenelle centrali lavoreremo in questo modo 3 catenelle una due e tre andiamo ora all'interno delle 2 catenelle sottostanti e lavoriamo una maglia bassa una catenella e di nuovo una maglia bassa facciamo 3 catenelle e una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante e riprendiamo con lo stesso motivo di 3 catenelle di 3 catenelle e una maglia bassa per tutto il lato ecco arrivata la fine del giro allora allora facciamo le nostre 3 catenelle andiamo all'interno delle 2 catenelle del giro sottostante del giro sottostante facciamo una maglia bassa una catenella di nuovo una maglia bassa poi 3 catenelle e e chiudiamo con una maglia bassissima prendendo la prima maglia bassa del lavoro del giro e anche questo giro è terminato ora dobbiamo passare alla lavorazione fantasia della nostra piastrella se cambiate colore potete iniziare direttamente a lavorare all'interno dell'angolo in questo punto con il nuovo filo altrimenti se rimaniamo come adesso faccio io con lo stesso colore devo tornare indietro per agganciarmi all'inizio dell'angolo giriamo la piastrella in questo modo e torniamo indietro a maglia bassissima per i punti che ci necessitano quindi io adesso ne faccio 3 4 perché c'è la maglia bassa e poi vado all'interno dove c'è la catenella in questo punto con la maglia bassissima ed ora possiamo iniziare la nostra lavorazione iniziamo con all'angolo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta facciamo una maglia alta sempre nello stesso punto di fianco alle 3 catenelle che abbiamo appena lavorato ora andiamo nella nostra maglia bassa e lavoriamo un punto a V che è formato da una maglia alta lavoriamo un punto a V ossia una maglia alta una catenella e una maglia alta nella stessa maglia di base eccolo qua ora ora nello spazio delle 3 catenelle lavoriamo una maglia alta questa in pratica è la diciamo il giro di preparazione maglia bassa quindi un nuovo punto a V maglia alta catenella catenella e maglia alta continuiamo in questo modo lavorando una maglia alta intorno alle 3 catenelle e un punto a V nella maglia bassa sottostante e questa per tutto il rigo maglia alta intorno alle 3 catenelle punto a V punto a V nella maglia bassa successiva e adesso all'interno qui nello spazio dove c'è una sola catenella lavoriamo due maglie alte una catenella e due maglie alte sempre nello stesso punto e questo sarà il nostro angolo per tutta la lavorazione avvenire ecco il nostro angoletto ora abbiamo subito la maglia bassa e quindi faremo il nostro punto a V al suo interno e continuiamo con la maglia alta all'interno intorno alle 3 catenelle e punto a V nelle maglie basse ripetendo l'angolo così come vi ho fatto vedere adesso continuare per tutto il giro ecco qua siamo arrivate quasi quasi alla fine del nostro primo giro appunto fantasia allora abbiamo le nostre 3 catenelle quindi facciamo una maglia alta adesso facciamo un punto a V nella maglia bassa successiva a questo punto non ci resta che completare l'angolo qui dove abbiamo la catenella tra le due maglie basse sottostanti abbiamo già fatto le due maglie alte iniziali e adesso completiamo con due maglie alte sempre nello stesso punto e una catenella ora ora per chiudere il nostro giro non dobbiamo far altro che puntare l'uncinetto nella terza vedete queste sono le due maglie che compongono l'angolo abbiamo fatto la prima maglia alta sostituendola con 3 catenelle e quindi inseriamo l'uncinetto nella catenella superiore e facciamo una maglia bassissima per chiudere il nostro angolo ecco qua ora per passare al giro successivo non dobbiamo fare altro che lavorare 3 catenelle e questo sarà per tutti i giri a venire fino a quando non raggiungerete la dimensione che volete di questa piastrella allora abbiamo detto 3 catenelle allarghiamo bene il nostro spazio e facciamo una maglia alta sempre al suo interno ora non ci resta che fare iniziare diciamo il nostro punto fantasia così come sarà sempre per i prossimi giri in questa e in questo modo allora qui abbiamo come vedete la nostra maglia a V il punto a P del giro precedente ora che facciamo queste sono le due maglie alte dell'angolo saltiamo la prima andiamo nella seconda e lavoriamo il nostro primo punto a V quindi partiamo da lavorare sulle maglie dell'angolo facciamo il nostro primo punto a V e una maglia alta all'interno del punto a V sottostante abbiamo qui la nostra maglia alta singola e in questa faremo il nostro punto a V quindi ricapitolando non dovremmo fare altro che in ogni giro lavorare una maglia alta sul punto a V sottostante in questo modo e un punto a V e un punto a V sulla maglia alta sottostante in pratica alterniamo i punti continuiamo maglia alta sul punto a V sul punto a V e punto a V sulla maglia alta questo per tutto il giro del punto fantasia quindi vedete anche nei prossimi giri dove abbiamo il punto a V lavoreremo una maglia alta e dove avremo una maglia alta lavoreremo un punto a V ecco sono arrivata all'angoletto quindi vi faccio vedere come proseguiamo ho lavorato un punto a V sulla maglia alta ora facciamo una maglia alta all'interno del punto a V sottostante dopo aver fatto la nostra maglia singola facciamo subito un punto a V nella prima delle due maglie d'angolo quindi maglia alta catenelle maglia alta terminiamo sempre con il punto a V ora entriamo nello spazio tra il gruppo di due maglie tra i due gruppi di due maglie alte che abbiamo nell'angolo e lavoriamo un nuovo gruppo un nuovo gruppo d'angolo quindi due maglie alte una catenella e due maglie alte una catenella una volta fatto il nostro nuovo angolo saltiamo questa prima maglia alta sottostante e nella seconda facciamo il nostro punto a V maglia alta catenella maglia alta e da qui si riparte con il punto fantasia quindi adesso abbiamo subito dopo il punto a V sottostante quindi noi facciamo la nostra maglia alta singola e continuiamo poi ci vediamo al completamento del giro arriviamo a chiudere il nostro giro io adesso ho appena fatto una maglia alta e quindi non ci resta vedete siamo arrivati sono arrivati alle due maglie d'angolo non resta che fare un punto a V nella prima delle due maglie d'angolo saltiamo la seconda e facciamo due maglie alte per completare l'angolo di partenza catenella e chiudiamo con una maglia bassissima ecco qua una volta terminata la piastrella facciamo un giro completo a maglia bassa partiamo sempre dal nostro angolo dove ci siamo fermati con la maglia bassissima facciamo una catenella e lavoriamo una maglia bassa all'interno dell'angolo dopo di che continuiamo con tutte le altre maglie che ci si presentano quindi lavoriamo all'interno delle maglie alte e intorno alla catenella al centro del punto a V in questo modo in questo modo quando abbiamo il punto a V lavoriamo nella prima maglia alta poi intorno alla catenella e poi nella maglia alta successiva sono arrivata quasi ad un angolo continuo con i miei punti bassi fino all'ultima maglia utile quindi eccoci qua adesso abbiamo lo spazio dell'angoletto e facciamo una maglia bassa al suo interno una catenella e di nuovo una maglia bassa dopo di che riprendiamo a lavorare le nostre maglie basse ecco qua ecco qua che ecco qua che ho quasi terminato il mio giro a maglia bassa sono arrivata all'ultime due maglie da lavorare qui nell'angolo iniziale e adesso facciamo una maglia bassa l'altra l'abbiamo fatta all'inizio una catenella e colleghiamo il tutto con una maglia bassissima a questo punto la piastrella è terminata io ho fatto una piastrella grande che utilizzerò come copertina da neonato nel mio blog al post dedicato a questa piastrella aggiungerò dei bordi da poter lavorare intorno a questa copertina o tovaglietta copritavolo come volete voi anche per questa volta è tutto spero che vi sia piaciuto questo modellino e non mi resta altro che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo tutorial a questa la 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 la